Ripartita nel segno della fiducia la campagna vaccinale con AstraZeneca dopo la sospensione, le verifiche e il conseguente ok dell'EMA. Qui siamo alla nuvola di Fuxas, uno dei maggiori centri romani dove si vaccinano insegnanti e over 75 in 5 ore 800 dosi. Caterina Pasqua, medico responsabile del centro all'Eur, ci spiega che la macchina gira a pieno ritmo come prima, anzi più di prima. Sono due rinunce e nessuna criticità ed ecco cosa ne pensa chi è venuto qua oggi a vaccinarsi. Non ha avuto nessun tipo di timore? No, anzi io ero prenotata per questa mattina, diciamo l'ultimo orario, non ero compresa, ero prima delle 15 però ho detto io ero uguale perché ero troppo convinta di poterla fare. E anche fuori dalla nuvola tutti motivati. Bisogna salvaguardare se stessi e gli altri. Quindi non è... questi 3-4 giorni non l'hanno... No, perché sapevo che era una decisione politica, non in base a dati scientifici. L'hanno detto chiaramente. Grazie. Che sono sbagliato. C'è invece a chi è stato consigliato Pfizer. Non lo so. Ha parlato col medico? Ho parlato col medico e ha deciso che era meglio che facessi l'opera. Quindi poi l'ha fatto? Eh no, ma mi chiameranno. Ah ho capito. Grazie. Prego. Timore all'indomani diciamo della decisione di questo... No, no, no. Venuto tranquillo? No, 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 no. Ha fatto AstraZeneca? Sì. Grazie. Prego, buon lavoro. AstraZeneca ha avuto qualche preoccupazione, timore? Non più di tanto. Sono rassegnata all'Avenience. Speriamo che va tutto bene. Ha confermato l'appuntamento diciamo. Sì, sì. Grazie.